Paolo Landini, Ufficio Sviluppo Sostenibile della provincia di Varese. Le scuole equative è un nuovo progetto che nasce dai risultati dell'esperienza di Modus Riciclandi, che è un progetto di cooperazione trasfrontaliera che ha lavorato sull'educazione ambientale, in particolare sulle tematiche dei rifiuti. Una scuola equativa è una scuola che nel suo percorso didattico, nel suo percorso scolastico, svolge e cerca di introdurre delle azioni ambientali nel suo contesto. Stare attento ai risparmi energetici spegnendo le luci in classe con il guardiano della luce, migliorare la raccolta differenziata mettendo dei cestini più dettagliati. Oppure un percorso di riuso creativo fatto magari a Centro Remi da Varese. L'insegnante inviando a noi la scheda di presentazione dei risultati di scuola equattiva può vedere la propria esperienza sul nostro portale internet Modus Riciclandi. Questo è un vantaggio per la scuola perché è un po' una promozione per la scuola dell'impegno dell'insegnante, dell'impegno della scuola verso anche le tematiche ambientali. Per segnalare la tua esperienza di scuola equattiva, se sei interessato, basta andare sul sito internet di Modus Riciclandi e scaricare il modulo. Puoi inviarlo agli indirizzi mail che vi sono indicati. Noi e il nostro ufficio raccoglierà tutte le esperienze che poi verranno pubblicate sul sito internet. Potrai qui vedere la tua scuola come scuola equattiva sul web.